...persona che come atleta arriva direttamente dal Varesino, 5 ore, 2 minuti e 28 secondi, Marco Zarrantonello! C'è uno spazio per Marco Zarrantonello. Signori, a me è piaciuto molto il suo gesto oggi durante la ciasfalonga mini per i bambini. Lui che qui ha vinto due edizioni, ha voluto distribuire le medaglie ai bambini, credo sia anche un esempio per una persona che fa sport da dare ai ragazzini. Sono un campione, ma sono uno di voi. Ha concluso col tempo di 4 ore, 58 primi e 21 secondi. Dopo due vittorie consecutive quest'anno passa e va direttamente all'anno prossimo per cercare il Tris, direttamente dal Vresciano Alfredo Corsini! Eccolo qua Alfredo. Io non ho sentito mica bene l'applauso, su! Ad oggi va molto di moda il poker, no? Se fosse stato al tavolo verde, quest'oggi avrebbe calato un poker d'assi eccezionale. Ha trovato una giornata fantastica. E' stato tatticamente perfetto. In 4 ore, 55 primi e 17 secondi, vince la terza ciasfalonga delle Marmarone, il trevigiano Andrea Zanatta! Grazie! Grazie! Grazie!